Giorgio Tirabbassi e Carlotta Proietti sono i protagonisti della commedia di Gaetanaccio Allora, innanzitutto, a chi è venuto in mente di rimettere in scena dopo 40 anni questa storica commedia? La colpa sicuramente è di Giancarlo Fares che è il regista È venuto in mente a lui perché pare sia un suo sogno da sempre Lo ha visto 41 anni fa e sogna di farlo da allora e quindi è stata sua l'idea E poi l'ha proposto all'Eliseo che ha accettato E quindi eccoci qua Ecco, innanzitutto parliamo della commedia Raccontiamo brevemente a chi magari 40 anni fa non l'ha vista Di cosa parla? Quindi la storia di questo burattinaio interpretato da Giorgio E questa attrice, Nina, è interpretata da Carlotta Innanzitutto diamo un attimo una trama generale Una trama generale, vai tu Ma guarda, è molto semplice Parliamo del quotidiano di queste persone Cioè nel caso di Gaetanaccio Lui ha il suo baracchino, il suo castelluccio Dove i burattini si esibisce nelle strade Però proprio in quel giorno all'inizio del spettacolo Il prologo annuncia che c'è una bolla papale Anzi, no bolla papale, c'è la quaresima C'è il periodo di penitenza Quindi vietate le rappresentazioni E se vietate le rappresentazioni Gaetanaccio non può guadagnare nulla Quindi c'è fame, more di fame Ma non mangiano Lei è un'attrice e decide di partire con i guitti Che anche loro hanno avuto il divieto di recito E quindi decidono di andare in provincia Avventurandosi tra le paluti, le zanzare Dove lei torna E a tutte e due capita uno strano invito a cena separato Tutte e due pensiamo che l'altro ha mangiato In realtà non è così Questo produce un po' di malumore tra noi L'amore non è bello se non è litigarello C'è la fame di sotto Ma anche una lingua molto cinica Che è quella di Gigi Magni Che riesce però, per magia, a mettere insieme Questo cinismo, questo taglio molto duro Ha l'amore, ha la leggerezza, ha la poesia In fondo siamo anche quasi burattini anche noi Quasi più osmosi E niente, poi c'è alla fine il grande miracolo Dell'amore che vince sulla morte Insomma, roba facile Esatto, anche perché questa commedia tra l'altro È attualissima anche come tematiche E appunto questo divieto alle rappresentazioni Questo clima che si vive durante la Roma Papalina Ma per fortuna non è così Tutti hanno detto Come adesso Ma per fortuna no Lì, no, non è come adesso Adesso i teatri chiudono per altri motivi Lì chiudevano perché non si poteva proprio recitare C'erano pene corporali Non so se mi rendo l'idea E qui è diverso da... Loro in quel testo parlavano Del teatro degli anni 70 Le grandi... Le compagnie che si improvvisavano Per prendere i contributi ministeriali Facevano un allestimento Con una donna nuda di spalle Uno che urlava Uno col violino E finita Cioè C'era anche questo Quindi lì Da parte anche di Gigi Magni Che è una grande penna Non solo del teatro Ma anche del cinema È uno storico Hanno messo insieme queste due cose Gigi Magni e Gigi Proietti In quell'anno Che è stato assolutamente proprio L'interprete ideale di quella roba Come è stato mica solo per quello Hanno fatto anche altre cose insieme Settele di Roma Hanno fatto tanto Il cinema Esatto E a proposito di Gigi Proietti Carlotta inevitabilmente Inevitabilmente Ti trovi sempre con questo cognome Da un lato Ovviamente Diciamo gratificante Dall'altro un po' ingombrante E tra l'altro Nella commedia originale Il tuo ruolo era interpretato Da un'altra figlia d'arte Che era Luisa De Santis La figlia del grande Peppino De Santis Ma Dile la verità Questa storia del cognome Ma Quanto ci mette poi Un'attrice a scrollarselo di dosso E soprattutto poi in realtà C'è la voglia fino in fondo Di dire Sì guardate che io però Non sono mio padre So brava pure io Vabbè che non sono mio padre Un po' si vede Insomma un pochino si intuisce Manca la barba Anche se io con la barba Non sto male Vero tu mi dico Vabbè Guarda Che ti devo dire È una cosa Più che altro È una specie di enorme filtro Ed è normalissimo Che sia così Che la gente mi vede Attraverso un filtro Che arrivi Questo prima di me Io di questo Non posso farci nulla E non biasimo poi Chi in qualche modo cerca È curioso anche Di magari Vedermi E dir No mi vede Dice vediamo che cosa sa fare È la stessa cosa faccio io La stessa cosa facciamo tutti Quando uno vede un figlio d'arte Dice vediamo che cosa sa fare Va bene così È giusto che sia così Lui ha E ha avuto Una carriera importantissima È un attore Che al di là di tutto Io stimo molto È un artista Tutto tondo C'è una tempesta Nel frattempo E quindi Credo che sia giusto così Non Non posso farci nulla E cerco di fare Del mio meglio Questo sì Senti invece Giorgio Tu devi tanto A Gigi Proietti Perché praticamente Sei nato con lui Diciamo Ecco Chiudiamo Cerchiamo di ripararci Dalla tempesta Esatto Si scatena l'inferno Dei Karamazov Qui sotto I Karamazov Esatto Giorgio tu invece Devi molto a Gigi Chi è venuta l'idea Che fossi tu Questo nuovo protagonista Anziché optare Per Montesano Con Rugantino Che è stato lui Riproposto Anche come protagonista Questo non lo so Questo Lo devi chiedere A chi ha pensato A chi ha pensato A me Io L'ho trovata Una Una scelta Che Che mi si Faceva Perfettamente Avevo capito Immediatamente Che era un Un ruolo impegnativo Per tanti motivi Ma anche psicologici Sai Però poi è punto Piano piano Poi uno Va avanti Passa Cioè È normale Avere paura Però bisogna Mettereci pure il coraggio Vicino alla paura Bisogna mettereci il coraggio Se no è finito Se no vince la paura Allora non si può più Non fa niente E io aggiungo una cosa Che lui giustamente Non dirà mai di sé Perché non lo può dire Che secondo me Giorgio è l'unico attore Che poteva fare questo ruolo Almeno per mia conoscenza Come la penso io È l'unico attore italiano Poi adesso vediamo All'estero Senti ma qual è invece la caratteristica Che più vi ha sorpreso Quella di Però mazza questa cosa Non me la sarei aspettata Poi studiando il copione La sorpresa diciamo piacevole È che leggendo Andando poi a spulciare bene le battute Alcune cose sono magnifiche Alcune cose sono veramente Alcune cose che tu le leggi Non ci fai caso Nel momento che poi le reciti Con i tempi giusti Nella condizione giusta C'hai Ogni attore è capito È aggrado a Gigi Manni Di aver scritto delle battute fantastiche Ti accorgi della grandezza facendolo E leggendo E studiandolo Recitandolo Poi non lo so Io Per quanto mi riguarda Ci sono delle sfumature Che cerco Insomma provo Di restituire Spero che in qualche modo arrivino Che fanno parte di questa donna Che è una donna arrabbiata Essenzialmente perché è un'attrice A cui viene impedito di recitare È frustrata Dura Che però Con una carezza si scioglie Quindi tipicamente romana Tipicamente di Magni Direi rivendicativa Orgogliosa Quindi Sono semplici Ma poi pieni di roba È un personaggio femminile Che non si trova Molto spesso Da nessun Cioè questo tipo di popolana Di donna assolutamente forte Ma anche appunto Ma che è una donna Che non rinuncia Alla parte Diciamo dolce Ma che è Una donna De metà ottocento Popolana Che combatte con la fame Che combatte con Con i prelati Che rimorchiano per strada Capito? Con la vessazione Anche del clero Rispetto Alle donne Infatti lì C'è stata una cosa Poi a del 78 Quella roba lì Perché io Ho un invito Un invito A pranzo C'è uno Che mi vuole portare Dal papa E allora Lei giustamente dice Ma come ti sei venduto Per una cena Dice sì Ma Non gli potevo mica Dì Che venivo Cava mia ragazza Dice qui E donne Devi ammetterlo Non hanno possibilità Di inserimento Che faccio Gli porto una donna Pare brutto Dice pare brutto Quindi insomma Anche Anche pensare Come era la donna Nell'800 Ma sai Fino al 48 Era così Esatto Cioè Non è che parliamo Parliamo Capisci Lo spettacolo È romanesco Quindi ci sta Il parlamo Sì 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 Assolutamente sì Assolutamente sì Adesso è proprio Un periodo Di sbrago Totale Anzi Più sei romano È bellissimo Invece Un'altra delle novità È anche Il riarrangiamento Delle musiche originali Da cui nacque poi Anche un disco Inciso da Da Gigi Proietti Sì esatto Le musiche sono Sono sue Insieme col grande Piero Pintucci Che ricordiamo essere L'alter eco coautore Dei più grandi successi Di Renato Zero E ovviamente Gigi Magni Parliamoci un attimo Di queste musiche Riarrangiate Rifatte Di questi musicisti Che saranno tra l'altro In scena con voi Sì 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 S'era pensato proprio A C'è il grande Dubbio Era proprio quello Perché Riascoltando le musiche Del 78 Si sentiva molto La necessità Di un arrangiamento Che Che tendesse un po' L'orecchio Alla musica Beat Senso che Il folk In quel momento Era kitsch Quindi C'era o La nuova compagnia Di canto popolare O Roberto De Simone Oppure c'era Lando Fiorini Claudio Villa Questo tipo Di roba qui Era arrangiato Diciamo Con Delle sonorità Che adesso Facevano un po' Contrasto Con E quindi Abbiamo cercato Di andare sull'acustico Quindi è un quartetto D'archi C'è una fisarmonica C'è stanno Delle cose Si Si è cercato Di semplificare Credo che Massimo Fedeli Che ha rifatto Gli arrangiamenti Credo che Abbia cercato Di andare su No Delle sonorità Anche più morbide Non c'è Non c'è batteria Non ci sono percussioni Eppure I pezzi Rendono benissimo Quindi Penso che Siamo tutti Molto Soddisfatti Le canzoni Sono splendide Sono proprio No Fanno Sognare Molti Le conoscono Perché poi Sono canzoni Che conoscevamo Tutti Da tempo Lei c'è cresciuta Io pure Perché Comunque Per il Gigi Le cantava Ma anche Qualche spettacolo L'ho fatto io Ma anche Dopocena E notate Infinite Dove cantavamo Tutto Dove forse Si è scoperto Che alcuni pezzi Vanno bene Anche chitarra e voce O poco di più Insomma Tutto sommato E quindi Io penso Stia molto bene Questo Questo tipo Di organico Musicale In questo contesto Credo sia giusto Insomma Azzeccato Ecco Per chiudere Ricordiamo allora Il debutto All'Eliseo E poi Immagino che Girerete l'Italia Quindi Allora Noi facciamo Dal 19 febbraio Al 10 marzo All'Eliseo E poi Andiamo Invece Al teatro Torbella Monaca E poi 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 Chi vivrà Vedrà Come si dice Finita la stagione Cerchiamo di capire Singapore Insomma Vediamo quanto Amano i romani Nel resto dell'Italia Moltissimo Vedrai che ci sarà Si Si Ma che sa Milano Comunque Vedremo come va Però c'è già Molta attesa E molta richiesta Certo Perfetto Allora Augurandovi Un tour mondiale In tutte le capitali Di tutti e cinque Continenti Complimenti E in bocca al lupo Grazie Viva lupo Ciao a tutti Ti aspettiamo All'Eliseo